Ok, i cannoni hanno raso al suolo l'edificio, ora gli ordino di attaccare un po' questa panteria, appena verrà dimezzata avanzerò con i miei soldati, oltre al ponte. Intanto ho spostato il mio generale e un po' delle mie unità da questo altro lato, perché come ripeto non ho molto tempo, devo finire subito la battaglia. Tengo il generale a una distanza tale da incoraggiare tutte le mie unità, dato che le sue sono molto di più. Come ho già detto questa battaglia è molto difficile perché si parte con un numero di soldati inferiore al nemico, al computer, è come se non bastasse anche con un esercito abbastanza debole. Tanto il primo fuoco è mio. Tanto i cannoni stanno continuando a martellare su questa unità, come naturalmente sta facendo anche con i suoi cannoni. Non mi preoccupa tanto il numero quanto quest'unità di tiratori, speriamo che la porti ad una distanza tale da... che i miei uomini possano spararli. Un altro po', un altro po', ecco, è proprio quello che temevo. Ah, ci no. Buono. Faccio avanzare leggermente la mia panteria. Come temevo, lui ha intenzione di caricare il mio esercito, dato che il suo numero è molto più grande. Intanto vediamo qui 124, 129. Io comincio a metter passare il fiume con il mio esercito, almeno ci provo. Ordinò ai miei granatieri di usare le granate. Ci sono abbastanza vittime tra le linee vittime, ma a quanto pare non... Succede proprio quello che temevo, il nemico mi blocca sul ponte. Io intanto devo far smettere i miei cannoni di far fuoco, perché potrebbero colpire molto facilmente anche i miei uomini. Anzi, gli ordino di attaccare i cannoni nemici. Tanto le mie unità vanno... Una mia unità va... viene sconfitta. Come temevo. Faccio avanzare un altro po' il mio generale. Intanto preparo i tiratori... Preparo i tiratori... Su questo lato qui. Una mia unità va in rotta. Vedo che molto presto andrà anche l'altro. Speravo almeno di vincere la battaglia sul ponte, però niente da fare. Intanto lui avvicina tutti e due i suoi generali. Credo che vuole attaccare il mio generale. Io ci sto alla sfida e... Magari riesco ad ammazzare il generale. Ok, ho ucciso il generale e ritiro subito il mio. Vorrei fare la stessa fine. Tanto i miei uomini si sono avvicinati al generale nemico, l'altro generale. Peccato, speravo... Che avrebbero ucciso il generale nemico, ma... niente. Ok. Sul ponte ho vinto io. Per smettere i canoni di sparare. Porto la mia fanteria a supporto... Qui. Il suo generale fugge. E qui vinco la battaglia. Credo di averla vinta, sì. Ho vinto miracolosamente questa battaglia. Mi sono anche dimenticato come si chiamava questa battaglia storica, comunque. E ci vediamo alla prossima.